E' stata inaugurata con successo, sabato 3 dicembre a Pordenone, la mostra Tonino Guerra, diario di un poeta, allestita nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato. Sono cento le opere raccolte in questo vasto progetto espositivo, suddivise in due sezioni, una dedicata ai libri d'artista, ovvero poesie e racconti accostati all'arte grafica, l'altra all'arte figurativa. Impossibilitato ad affrontare il viaggio fino a Pordenone, l'artista novantenne si è affidato a un videomessaggio per ricordare che non si tratta di una mostra per venerare un personaggio, ma per conoscere un uomo. Guardate questa esposizione, non come se andate a venerare qualcosa, basta che ci sia una cosa che si aggrappa la vostra memoria, questo è già morto. Erano presenti il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti e l'assessore alla cultura Claudio Catarruzza, che hanno ricordato come questa sia la prima di tre importanti mostre che concluderanno l'anno culturale di Pordenone. È stato fatto un grande sforzo, ancora una volta, per offrire qualche cosa all'altezza di quello che la città ormai ci chiede dal punto di vista della cultura. Ci aspettiamo una grande affluenza, è uno scrittore, un poeta, il suo nome legato ai film di Fellini, ma è anche un artista, un pittore, che ha delle caratteristiche in cui si vede alla traccia con le sue esperienze di tipo cinematografico. Un invito a tutti voi di venire a vedere la mostra e poi seguirci nell'ultima parte delle manifestazioni culturali a Pordenone. La mostra resterà aperta fino al 26 febbraio 2012 e sarà accompagnata da numerosi eventi